Oggi ricorre il 210 anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri che dal 1920 viene celebrato il 5 giugno. Per i reparti delle province di Chieti e Pescara la cerimonia si svolta nella storica caserma Rebegiani di Chietiscalo, già a sede del secondo battaglione allievi carabinieri ausiliari e che oggi ospita un centro di eccellenza, ovvero il Centro Nazionale Amministrativo della Comando Generale. Nell'ultimo anno in Abruzzo e Molise l'Arma dei Carabinieri ha svolto 137.171 servizi preventivi per 693.000 ore, per un controllo di 561.441 persone e per 394.149 veicoli controllati. Altrettanto apprezzati i risultati conseguiti nel contrasto ai fenomeni criminali organizzati e a tutte le forme di illegalità che tentano di condizionare il vivere civile. Tratte in arresto 1.210 persone, segnalate in stato di libertà oltre 9.840 per 36.124 reati perseguiti. Tuttavia, per quanto significativi numeri e dati sono destinati a rimanere fini a loro stessi, qualora si perda di vista, ha affermato il generale Neosi, comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, l'essenza della missione che ogni militare dell'Arma persegue con convinta abnegazione. Al centro deve esserci infatti sempre la persona, vuoi che sia il cittadino in difficoltà, vuoi che sia il militare che ha operato, patrimonio della cultura, dell'essere più che dell'apparire. Anche per l'Abruzzo e per il Molise, le due regioni geografiche che dipendono dalla Legione, io posso fare sempre un bilancio positivo, considerate la qualità della vita che abbiamo in queste nostre regioni. Ovviamente l'apporto dei carabinieri è sempre più costante e impegnato nel far sì che tutti quei fenomeni che in qualche modo possano creare allarme sociale devono essere contenuti. L'Abruzzo resta un'isola felice insieme col Molise? Io non utilizzerei mai l'isola felice perché esistono tanti fenomeni che possono creare in un momento storico un determinato problema o allarmismo. L'importante è che le istituzioni devono essere presenti sempre e l'arma dei carabinieri per quanto riguarda l'ordine e la sicurezza pubblica è una di quelle istituzioni che da oltre 200 anni è a servizio del nostro Paese.